ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale qui davanti vedete tre bustine con tre abbinamenti colori vedete un etichetta sul fronte vediamo un po di cercare di capire cosa sono guardiamo un po le perline abbinamenti veramente fantastici stupendi guardate che meraviglia guardate guardate qua ci sono dei capo doppio foro da 7 mm e quindi cosa sarà questo kit su cui c'è scritto pure lori ebbene si uscirà a breve sul sito lori creation il kit degli orecchini lori gli orecchini lori se ricordate sono un tutorial già presente sul mio canale è uscito già mai più di un anno fa e volevamo durante l'estate proprio festeggiare l'anniversario dei lori con il kit purtroppo non è stato possibile perché mancavano alcune perline ma ora quindi a breve uscirà il kit in queste tre meravigliose varianti colore ora io non mi rimane che prendere le bustine realizzare tutte e tre le varianti colore così ve le farò vedere e lancieremo il kit in queste tre meravigliose varianti quindi ci vediamo prestissimo con gli orecchini realizzati eccomi di ritorno per voi è passato un istante per me un poco di più e quindi ora sono pronta per farvi vedere le tre varianti di orecchini lori di cui troverete il kit sul sito lori creation quindi vi lascerò il link qui sotto di tutte e tre le varianti che vi sto per far vedere vi invito anche a guardare il video successivo a questo che sarà probabilmente pubblicato domani quindi il giorno dopo l'uscita del kit un video acquisti con veramente delle novità meravigliose che trovate sul sito di lori creation e quindi ora inizio a farvi vedere invece le tre varianti partendo dalla prima eccola qua questa è la variante watermelon quindi lori watermelon guardate che meraviglia belli belli poi quindi abbiamo la variante watermelon qua era la bustina e sono i materiali che mi sono rimasti poi abbiamo la versione turquoise guardate che spettacolo bellissimo anche questa qua la bustina col materiale che ho utilizzato e per finire abbiamo la variante ginger guardate che meraviglia anche questa allora questa è l'unica versione in cui ho deciso come da tutorial consultandomi un po colori con gli abbinamenti ho deciso di utilizzare i due giochi di colore delle rocaille 11.0 come suggerisco nel tutorial negli altri due no ma insomma come dicono il tutorial siamo liberi di realizzarle con la variante colore quindi per creare questo gioco che vedete nelle puntine oppure no come insomma la resa è magnifica in tutte e due le maniere ecco ci ho tenuto a dirvelo perché è in questa variante troverete le due bustine di rocaille ovviamente di rocaille più scure queste qua terracotta ne troverete poche perché ne servono ben poche però ci ho tenuto a specificarlo perché questa variante avrà questa differenza un'altra cosa che ci tengo a specificare è quella delle rivoli allora nel rivoli dico di utilizzare un rivoli svaroschi perché comunque con i rivoli in vetro ci sarebbe stato il rischio di dover adattare l'incassonatura perché come sappiamo i rivoli della svaroschi sono sempre più sottili rispetto ai rivoli in vetro in questo caso non abbiamo utilizzato svaroschi ma abbiamo optato per i rivoli mocha quindi quelli in vetro ma mocha che guardate il caso lo dimostra proprio questa incassonatura che si adatta alla perfezione che come potete vedere io non ho fatto nessun incambiamento rispetto all'incassonatura con lo svaroschi e si adatta alla perfezione anche a questo rivoli mocha quindi come ho detto in altre occasioni i rivoli mocha sono fatti veramente benissimo e quindi sono sicuramente anche più sottili si avvicinano moltissimo alla all'altezza diciamo del rivoli svaroschi ed è proprio per questo che non da nessun problema scusate mentre con i rivoli in vetro mi ricordo che avevo provato a realizzare con i rivoli in vetro ma c'era da fare una piccola adattatura diciamo sull'incassonatura in questo caso invece vi confermo che potete seguire il tutorial alla lettera per tutte e tre le versioni perché tutte e tre le versioni hanno tre meravigliosi tre coppie meravigliose di rivoli mocha quindi guardate che meraviglia comunque l'effetto che fanno lo sappiamo questi rivoli mocha sono veramente bellissimi bene quindi questo anzi adesso vi faccio vedere anche in questo la versione ginger che vi ho appena presentato quindi lori ginger watermelon e lori turquoise sono le tre varianti colore che trovate da questo momento come kit per realizzarli sul sito di lori creation quindi detto questo spero che l'idea vi piaccia chiaramente gli orecchini lori sono stati un progetto di successo ed era un peccato avere il progetto in collaborazione senza che ci sia stato il kit ma come vi dicevo all'epoca lori non aveva ancora iniziato questa avventura dei kit quindi speriamo di aver fatto cosa voi gradita io vi ringrazio per aver visionato questo video mi raccomando vi lascerò tutti quanti i link utili qui sotto e ci vediamo alla prossima sarà prestissimo con il video acquisti meraviglioso che vi consiglio di seguire ciao alla prossima ciao ciao